Ne avete visti tanti in questi giorni in piazza qui a Roma, perché c'è sempre qualcuno che deve far casino in rappresentanza delle forze dell'ordine e del sindacato autonomo di polizia. Facciamo sentire il nostro ringraziamento a Gianni Tonelli! Grazie mille Matteo Salvini, non solo per questa opportunità, ma anche per la vicinanza e il sostegno quasi ostinato che continuamente dimostri a tutti i miei colleghi. E grazie a loro che oggi rendono possibile questo momento di democrazia. Presidente Renzi, sono qui per dirle, dal mondo della sicurezza, che le cose non vanno bene. I poliziotti bramano poter servire il Paese e la brava gente, ma non gli viene concesso. I ragionieri di Stato hanno commissariato la sicurezza e in preda ad una cieca irragionevolezza compulsiva continuano a tagliare e ancora a tagliare. Mancano 40.000 uomini nelle forze di polizia, di cui 18.000 solo nella Polizia di Stato. Ci tagliano i fondi per tutto. Nel 92 avevamo l'equivalente di 90 milioni di euro per le divise, oggi solamente 15,8. Le auto sono scassate e mancano soldi per le manutenzioni. Ogni 10 giubbetti antiproiettili ritirati perché scaduti ne viene consegnato solamente uno. I nostri luoghi di lavoro sono indecorosi e sporchi e rimangono aperti unicamente perché è vietato alle ASL entrare. Hanno tagliato non solo sugli organici, sulle risorse, sui mezzi, sulla sicurezza, l'igiene e la salubrità sul posto di lavoro, ma anche sulla professionalità. Nella Polizia dovrebbero esserci ulteriori 14.000 ispettori e 9.000 sovrintendenti, ma hanno tagliato per risparmiare sui costi dei concorsi, dei corsi, delle differenze stipendiali. Come faremo a costruire un grattacielo se nel cantiere mancano i mastri muratori e i capi cantiere? Solo un operatore su 10, impiegato nel controllo del territorio, ha frequentato il relativo corso di formazione. Presidente Renzi, le posso assicurare che l'apparato della sicurezza è sull'ordine del collasso. Se non mi crede, dio nulla osta alle televisioni e ai giornalisti, per poter entrare nei nostri ambienti e interagire con la comunità interna dei poliziotti, i quali potranno certificare, senza intermediari, che quello che dico è un distillato di verità. Presidente Renzi, i poliziotti sono stanchi di essere considerati un'entità negativa, un ammasso di brutti insensibili da rieducare e normalizzare. Chiediamo rispetto! Ogni asino che raglia, finiamo la sbarra! Se veniamo una rapina, se sventiamo una rapina e ci limitiamo ad intervenire fisicamente, veniamo condannati per lesioni e al delinquente gli dobbiamo pure esercire i danni. Il partito dell'antipolizia ha portato in Parlamento insensate e farneticanti proposte di legge e se approvate ci perseguiteranno, ci impediranno di operare e di servire la brava gente. Presidente Renzi, la brava gente non vuole essere considerata una pedina al servizio di un sistema ideologizzato da arcaismi pattumati dalla storia. La brava gente vuole tornare al centro del sistema, vuole ritrovare le sue certezze e la sua serenità. Vuole tornare a godere del presente e a pensare al futuro dei figli. Presidente Renzi, bei tempi, quanti da bambino potevo restare fino a tarda ora in strada a giocare senza preoccupare i miei genitori o quanto si lasciavano le chiavi sull'uscio di casa. Presidente Renzi, per dolo o per colpo ormai l'Italia ha servito ai delinquenti. Se sei un mascalzone, se sei un mascalzone, non hai nulla da perdere, tutto da guadagnare. Tanto qui, tra prescrizioni, amnistie, indulti e depenalizzazioni, è una cuccagna! Se sei una brava persona, non ti puoi permettere nemmeno di difendere. Se eroicamente ti adoperi per salvare un concittadino dal pericolo di una rapina a mano armata, di un Kalashnikov e ti sparano addosso, finisce la sbarra come un mascalzone. Ti devi pagare l'avvocato e hai finito di campare! Presidente Renzi, se vuole comprendere il perché di tutto questo, la invito ad ascoltare alcune intercettazioni in cui i stranieri invitano il loro connazionale a venire in Italia, perché tanto qua si può fare quello che si vuole, rischiando poco o nulla. Presidente Renzi, i fatti di Charlie Hebdoe del Belgio, Copenhagen, sono stati una doccia fredda per chi pensava solo a tagliare. Persino l'Europa ha scoperto di essere impreparata alla nuova insidia e le forze di polizia devono affrontare un nuovo pericolo. Presidente Renzi, la nostra proposta è irrifiutabile, costa poco e può essere subito operativa. Sblocchi il turnover se vanno in pensione a 100 poliziotti, 100 devono essere riassunti. Non chiuda i 251 uffici di polizia, gli italiani non lo meritano. Non ascolti i ragionieri che siccome non possono mettere nuove tasse, tagliano i servizi, anche sulla sicurezza. Assuma immediatamente i mille ragazzi già selezionati come i doni. hanno entusiasmo e ci aiuteranno. Sani il sottorganico di ispettori e sovrintendenti di Alvia Libero per il corso antiterrorismo per 12.000 poliziotti impegnati nel controllo del territorio. E concludo. Presidente Renzi, la Camera dei Deputati spende ogni anno 7 milioni per le pulizie. Il corso antiterrorismo da noi proposto, solamente 6. secondo lei, la sicurezza dei cittadini e la vita dei poliziotti valgono meno della polvere di Montecitorio?